Nell'ultima seduta della Commissione Speciale per le Riforme Statutari e Regolamentari, il Presidente Andrea Smacchi ha illustrato la proposta del Partito Democratico in cui si fissano criteri e principi che dovrebbero sostanziare la nuova normativa elettorale, che dovrebbe disegnare un sistema proporzionale corretto con premio di maggioranza. Questi i punti centrali del documento. Elezione diretta della Presidente, turno unico e collegio unico regionale. Abolizione del listino. No al voto disgiunto. Si prevede la possibilità di esprimere due preferenze. La seconda di genere è diverso. Non è fissata alcuna soglia di sbarramento per liste e coalizioni. Per il riparto dei seggi viene indicato il metodo Hagenbach-Bischoff, cosiddetto prima della miglior media. Il premio di maggioranza sarà così articolato. Fino al 40% dei votivali di 11 seggi. 9 tutte le altre liste e coalizioni. Oltre il 40% e fino al 60% 12 seggi. 8 tutte le altre liste o coalizioni. Oltre il 60% 13 seggi. 7 tutte le altre liste o coalizioni. Per le minoranze viene garantito il numero di almeno 7 dei 20 seggi. I candidati alla presidenza sconfitti sono eletti a consigliere se collegati a liste o coalizioni che abbiano conseguito almeno un seggio. Non c'è incompatibilità tra la carica di assessore e consigliere. Riguardo alla raccolta di firme, per la presentazione delle liste si prevede l'esonero per quelle che sono espressione di determinati partiti o movimenti costituiti in gruppo parlamentare, in almeno un ramo del Parlamento, già presenti in assemblea legislativa e collegati a un partito costituito in gruppo parlamentare in entrambe le camere. Per le liste che devono invece procedere alla raccolta delle firme viene fissato il numero in 3.000. Sulla relazione di smacchi si è poi aperto un primo confronto che ha evidenziato a diverse gradazioni una contrarietà abbastanza netta dei consiglieri di opposizione. Da parte dei commissari del centro-sinistra sono stati evidenziati i punti di discussione ancora aperti, pur nel riconoscimento del passo in avanti costituito dalla presentazione di una proposta complessiva. La proposta che ci è stata presentata ieri dal consigliere smacchi, presidente della Commissione sulle riforme dello statuto, in relazione alla legge elettorale, deve essere modificata in due punti fondamentali. Il primo riguarda l'introduzione del doppio turno, fissata il livello al di sopra del quale si prende e si ottiene il premio di maggioranza, se nessuna coalizione lo supera bisogna andare al secondo turno per l'attribuzione del premio di maggioranza. La seconda questione riguarda il modo di attribuzione dei seggi, in questo senso bisogna usare un sistema che dica che i seggi che si ricevono sono in proporzione ai numeri dei voti che si ottengono. La legge elettorale è uno strumento fondamentale per dare effettività al senso democratico della nostra regione e noi non siamo d'accordo ad un sistema che ad esempio ad un partito che avesse il 30% dei voti possa attribuire la maggioranza assoluta dei seggi. Detto questo dobbiamo costruire un sistema nel quale il voto di ciascun elettore pesi come il voto di un altro. Per questo il sistema deve essere il più proporzionale possibile attenuando quegli elementi distorsivi che il sistema presidenziale produce. C'è qualcuno che sulla legge elettorale sta pensando di scherzare, invece è una cosa seria. Ci sono una serie di premi che vogliono blindare l'elezione nella proposta di legge del Partito Democratico e ci sembrano del tutto inaccettabili. Dicono no al doppio turno perché probabilmente c'è stata una sindrome di Perugia, dell'effetto Perugia, delle elezioni che non è stata ancora superata, una sorta di lutto non elaborato e poi non bastasse questo addirittura si pensa a premi di maggioranza anche per coalizioni troppo deboli, troppo fiacche, anche quelle che non arrivano al 40%, un premio di coalizione esagerato che supera il 60% è davvero inaccettabile. La proposta del PD dell'Umbria è una proposta che non trova il nostro parere favorevole. Noi pensiamo che l'elezione diretta del Presidente si debba coniugare necessariamente con il doppio turno. Non siamo d'accordo sulla eliminazione del voto disgiunto, così come non siamo d'accordo sul modo di ripartire i seggi sia per le coalizioni sia per i partiti che fanno parte delle coalizioni. La proposta avanzata dal gruppo del PD in Commissione è dal mio punto di vista assolutamente insufficiente e inadeguata. Tende a penalizzare e colpire i soggetti più deboli, minoranze culturali e politiche e soprattutto quelle di sinistra. È contraddittoria in maniera elevata soprattutto per il fatto che si accetta, è un dato oggettivo ormai, il presidenzialismo, le elezioni dirette, ma di fatto si evita nella nostra regione la disgiunzione del voto che è un elemento connotante di questo aspetto. L'altra cosa è che una soglia del 40% non può dare il 60% di rappresentanza. Positiva la presentazione della proposta da parte del gruppo del PD, ma ancora non ci siamo. Alla dichiarazione di non voler fare monocolori ma favorire le coalizioni deve corraspondere una tecnica elettorale che consenta che si avveri ciò. Disponibilissimi, positivo sul collegio unico regionale, anche se non ci impicchiamo a questo, critici sulla preferenza di genere perché andrebbe a favorire il correntismo e le città più grandi. C'è ancora del lavoro da fare? Noi sulla legge elettorale abbiamo espresso la nostra più totale contrarietà. Abbiamo definita una legge super truffa che cerca di dare un grande premio anche con un piccolo risultato e soprattutto favorisce le accozzaie di coalizioni, così le abbiamo definite, nel senso che cerca di fare in modo che si possano costruire delle coalizioni in cui c'è dentro tutto il contrario e tutto a discapito della governabilità e quindi siamo assolutamente contrari.